Siamo registrando questo video da OnePlus 5 alla risoluzione del 1080p Vi ricordo che non è presente alcun tipo di stabilizzazione ottica se non solo quella digitale Facciamo uno zoom 2x e vi ricordo che il massimo è fino a 8x Ovviamente sempre di tipo digitale Come vedete questi si diventa molto difficile riuscire a mantenere firmo il soggetto Torniamo indietro e continuiamo un po' la nostra passeggiata Giusto per farvi un po' capire che purtroppo la stabilizzazione di questo OnePlus lascia molto a desiderare Facciamo un po' un pan veloce per vedere l'adattamento ambientale Video girato da OnePlus 5 alla risoluzione del 1080p Per tutte le conclusioni andate a vedere la recensione Ciao ciao